Ciao amici del Club delle Ricette, prepariamo insieme le scaloppine ai funghi. Iniziamo infarinando per bene nella farina bianca le fettine di vitello da ambo i lati, facendo attenzione a togliere la farina in eccesso. Intanto ti ricordo di scaricare gratis la nostra app per poter leggere tantissime altre ricette e contenuti imperdibili per chi ama il mondo della cucina. Mettiamo ora in una padella un filo di olio d'oliva, una noce di burro, uno spicchio d'aglio, qualche rametto di rosmarino, le foglie di salvia e facciamo soffriggere per qualche secondo. Uniamo ora le fettine di vitello infarinate, saliamo e facciamole rosolare per bene da ambo i lati per qualche istante. Sfumiamo con un po' di vino bianco e quando la parte alcolica sarà evaporata, togliamo le fettine di vitello e teniamole da parte. Nella stessa padella mettiamo un filo d'olio, una noce di burro e aggiungiamo i funghi surgelati. Saliamo, pepiamo e facciamo rosolare per qualche istante. Sfumiamo con vino bianco, mescoliamo per bene, copriamo con un coperchio e cuociamo a fuoco dolce. Riuniamo ora le fettine di vitello, mescoliamo per bene, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per qualche minuto così che si insaporiscano per bene. Sfumiamo con vino bianco, mescoliamo per bene, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per bene. Ecco pronte le scaloppine ai funghi, un secondo autunnale davvero imperdibile. Per tante altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app.